Mercoledì, questo è il gruppo di piccoli amici di mister Gabriele di Felice che è anche il mister dei giovanissimi e il coordinatore dello staff tecnico. Se la palla mi cade, io vado a riprendere la palla, mi riposiziono, uno, poi anche col sinistro, due, col destro, tre, col sinistro, quattro, cinque, via! Su, bravi, dai! Su, bravi, dai! Su, così, meglio, meglio! Ognuno ha il suo pallone. Su, meglio! Forse i palleggi, su! Dai ancora, dai ancora, dai ancora! Grande, grande, dai! Roberto, dopo prendi il nome e cognome e aggiungilo nella lista tua di quel ragazzo. Sì, l'ultimo, è un genio di nome. Bravo, bravo Samuels. Eccoci, anche il mister Roberto Verna. Mister in seconda di questo gruppo numeroso di ragazzi. Andiamo dietro, andiamo dietro, andiamo dietro, andiamo dietro, andiamo dietro in mezzo al campo, non vedete qua, non vedete qua, non ho bisogno di andare al campo. Eh sì sì. Respiriamo, pallone tra le mani. Respirate, raga. Qui sono già dall'anno scorso e ci sono anche dei nuovi, lo potete facilmente riconoscere che non hanno la divisa azzurra. Qua c'è un gruppo che c'è la casacca gialla, l'ha la casacca rossa. No, vai su, vai su, guarda. Uno e lo riprendi. Lo riconoscete perché non hanno la divisa, ma appena sarà formalizzata l'escrizione, tutti quanti avranno il kit completo. Uno e lo riprendi, dagli il colpo, due e lo riprendi, su, due e lo riprendi, via. Mister Gabri con la sua grinta, così, dai, bene con la testa, bene con la testa, su, così, così, buona, dai, dai, sì, bravi, bravi, ancora, ancora, sì, grande. Ecco il nostro mister, il biondino. Bravo, ok.